Ma fortunatamente, come Precht aveva capito, parlando ai militari, diceva il generale, l'uomo può ammazzare, può distruggere, può bombardare, ma ha un difetto, può pensare. Per cui con tutti i loro sforzi non riusciranno a cancellare la capacità di pensare e la capacità di progettare vita, perché questi giovani aspirano a una cosa che ci è stata tolta dal signor Berlusconi e dalla sua corte, la gioia di vivere. Dico una cosa, perché si evitano ambiguità ed equivoci, Silvio Berlusconi dovrebbe andare a processo, Silvio Berlusconi dovrebbe spiegare al Paese come ha costruito la sua fortuna e il suo potere. E' la cosa più semplice, una volta fatta chiarezza queste dichiarazioni si collocano nel loro ambito, cioè rientrano in un'inchiesta sulla base di ciò che viene fatto per altri, non si capisce perché non si debba fare per Silvio Berlusconi. Se poi queste dichiarazioni siano credibili, siano credibili ma non fruibili o non siano credibili è affare che deve decidere la magistratura e che devono decidere all'interno di un dibattimento, come si fa in un sistema di giustizia, non nei salotti dei pettegorezzi televisivi e non negli scagnatoi delle trasmissioni in cui con la bava alla bocca qualcuno arriva a lanciare calumnia nei confronti dell'altro. Ci sono i tribunali, ci sono i giudici, ci sono le leggi, ci sono gli avvocati. Però Berlusconi dice che il popolo lo ama, che il popolo l'ha votato e non gli interessa quello che lui fa. Adolf Hitler avrebbe potuto dire la stessa identica cosa quando fu eletto a maggioranza. E dice anche che noi giornalisti o voi intellettuali e grandi artisti sputtanate il paese parlando così di lui. Io credo che il più grande anti-italiano della storia repubblicana si chiami Silvio Berlusconi. Noi stiamo cercando di ridare al nostro paese perché noi lo amiamo. Lui lo vuole usare per poi venderlo ai suoi sodani.